una buona serata da bruno la voce di roma mi ricordo a giacchetti caro giacchetti avrei detto che ti saresti messo perché se i 5 stelle si univano con il partito democratico non c'è nulla a che vedere beh bravo sei complimenti da me da tutta quanta la gente che mi segue perché hai i 1560 euro di consiglio comunale che prendi al mese più 14850 come deputato bravissimo questo è quello che noi vogliamo ecco esportare all'esterno alla gente che italiana che prende 1200 euro al mese e che poi ecco non vi ha votato non vi ha votato e che oggi con giorgia meloni con anche il nostro matteo salvini e toti hanno dimostrato che questo è soltanto l'inizio di una brutta guerra che si farà nei vostri confronti perché non siete stati votati e perché volete essere attaccati alla calenda a questa cazzo di sedia quindi il 15 ottobre noi avremo una grande manifestazione a piazza san giovanni dove c'è il raffa dei di un certo ricciolo bianco che si chiamava grillo lo faremo noi perché vi dovete vergognare non siete stati votati quindi dovete andare a casa e questi 15 mila euro vi dovete lasciare a casa a casa una buona serata da bruno la voce de roma ciao